Lui è tornato. La mamma sta dormendo. Io mi nascondo. Lui si china su di lei urlando. Alzati! La picchia. Sei una maledetta troia! Mamma si inghiozza. Lui mi sta cercando. Si china e sorride. Eccoti qua, piccolo stronzo. Piccolo stronzo. Dottor Flynn, io non ho mai avuto una relazione prima. Oddio, Christian. E Christian, beh, è Christian. E nell'ultima settimana sono successe parecchie cose. Penserà sempre il peggio di sé. Fa parte dell'odio che prova verso se stesso. E nel suo carattere. Non è un saradico Anastasia. È un ragazzo arrabbiato, spaventato ma brillante. Che ha dovuto affrontare l'orribile destino con cui era nato. Vuole stare con te e per farlo ha bisogno di rinunciare agli aspetti più estremi di quel tipo di relazione. Anna, che cosa c'è che non va? È tutto così confuso. Non so più di chi guidarmi. Sei importante per lui. Non sarebbe arrivato in questo punto se non ti avesse incontrata. Mi concedi questo ballo. Christian. Allora come posso aiutarlo? Devi solo continuare a fare quello che stai facendo. Christian è innamorato di te. Anna. Sposami. Ciao. Ciao.